Buonas dias, si parte. Pronti? No. Così così. Questa notte non ho dormito molto. A quanto pare sembra che non ci sono riusciti neanche i miei compagni di viaggio, con i quali tra l'altro continuerò con piacere a camminare anche oggi. Piove! Meno male che siamo partiti un po' più tardi questa mattina, intanto ora siamo al sicuro. A questo punto non ci resta che aspettare mangiando una bella tostada con prosciutto. L'ufficio meteorologico dell'Aeronautica militare aveva previsto sole intenso, temperatura di 38 gradi. Per un motivo o per l'altro questa mattina abbiamo ritardato la partenza ed è stata una fortuna. Immaginate se prendevamo questa pioggia in mezzo a questi boschi. oggi 20 chilometri fino a Tineo. Abbiamo cominciato la giornata con un bel temporale ma in ogni caso siamo riusciti a partire. Oggi sono circa 20 chilometri a Tineo, praticamente tutti di salita. stiamo percorrendo un sentiero. È diventato una sorta di ruscello in piena. Si va, si va. Ho la fortuna di far parte di un bel gruppo molto coeso. Guardate un po' il sentiero che stiamo percorrendo. Questa è proprio tosta. Ti confermo assolutamente che il cammino primitivo è il più duro tra i cammini di Santiago. Prima di affrontare il viaggio. Questa è la situazione. Questa è il caso. Questa è la tua prot exchanges. Questa è la situazione per no tigeksi. Questa è la sua politica. Ra Nel frattempo il sole ha fatto capolino e la frescura del mattino ha lasciato spazio al solito caldo appiccicoso. Pensevamo di averlo perso. Yeah! Grazie per la visione! Si sale sempre, ha cominciato a fare caldo come i due giorni passati. Consiglio questo cammino a chi ha già fatto un cammino di Santiago. Dopo la pioggia di questa mattina i sentieri sono veramente pieni di fango. Grazie per la visione! Qui se si creano dei bei gruppi affiatati vale la pena proseguire insieme, anche perché ci sono dei percorsi di montagna, come dicevo, per rimanere da soli in certi posti. Il nostro alberghe del giorno, Hotel Parazio Meras. Non fraintendeteci, abbiamo trovato un ottimo prezzo grazie a Patrizio. Signori, prego, accomodatevi. Grazie. L'hotel Ristorante Parazio Meras è decisamente un hotel di alto livello, ma che ha messo a disposizione dei pellegrini un intero piano al prezzo di 15 euro a persona. Questo rende l'idea di come sono tenuti in considerazione i pellegrini in questo cammino. che spettacolo! Siamo arrivati a Tineo ed è riescolosa la pioggia. Siamo arrivati a Tineo e 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 a Tineo. perché il cammino è anche questo. Io che ho fatto. Se questo tipo di contenuto è stato di vostro gradimento, vi invito a mettere un like ed iscrivervi al canale. Vi ringrazio anticipatamente e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!